Musica Benvenuti alla resegna stampa di oggi, oggi è mercoledì 14 dicembre 2016. Allora questa è la resegna con l'occhiata ai giornali che daremo tra poco. Cominciamo dal santo del giorno, il santo di oggi è un santo che è dottore della chiesa, San Giovanni della Croce. Il sole è sorto alle 7.34 e tramonterà alle 16.32. Per quanto riguarda il tempo c'è poco da dire, sono giornate monotone dal punto di vista meteorologico. È inutile nascondercelo, sono tutte uguali, tutte foschie, tutti impurgatori insomma, tutto così, tutta nebbia. Non c'è nulla, c'è poco di emozione, di emozionante anche nel tempo. Andiamo, lo scorriamo così senza dire granché insomma. Fino a venerdì il tempo è uguale a quello di oggi, quello di ieri, quello di ieri l'altro, ieri l'altro ancora. Allora il resto del Carlino, la pagina di Pesaro, le confessioni di Filippo Magnini. Ecco la prima pagina, ormai è ufficiale la rottura con Federica Pellegrini. Magnini però impegnato in vasca con Ivan Cottini, che dunque parla d'altro, delle priorità nella sua vita, di quanto conta aiutare soprattutto gli altri. Vedete Ivan Cottini mentre indossa la cuffia e Filo Magnini. Poi sopra, ospedale Ceriscioli Gela Tutti, a gennaio il progetto su Muraglia, lo vedremo tra un istante. Sotto niente merce nei pacchi, c'era il mattone, venditore online è stato condannato per creare il giusto peso, spediva dentro i laterizi, spediva dentro i sassi. La pagina di Fano del resto del Carlino, scuole niente cecchi, l'agraria va ad Urbagna. Lo stop del presidente della provincia Tagliolini, congelati anche l'indirizzo tecnologico per Battisti e Polo 3. Poi sopra Interquartieri, un chilometro di Passione, finalmente fissato il taglio del nastro. Abbiamo detto che Interquartieri a Fano aprirà giovedì, verrà inaugurato giovedì 22 dicembre, almeno così ha annunciato l'amministrazione. Saranno 900 e passa 915 metri di lunghezza, per i quali ci sono voluti più di 10 anni di lavori. L'altra pagina, archiviata la notte rosa, non ci appartiene e su questo non abbiamo nulla davvero da ridire. Il comune di Fano cambia strategia per quanto riguarda le iniziative, i prossimi eventi, proposte più tipiche, avanti con passaggi festival, il festival dei libri, della saggistica e spazio anche alle manifestazioni sportive. Il dibattito sul turismo, un turismo che però a Fano va un po' in ordine sparso, non c'è un'identità turistica o perlomeno ci si domanda quale sia l'identità turistica di Fano, come può la città diventare attrattiva e far crescere la sua notorietà sul mercato globale del turismo. Insomma, la Giunta Seri lancia questa sfida, creare una strategia turistica con la partecipazione attiva di tutti gli attori protagonisti. E c'è un incontro, c'è stato un incontro, c'è un incontro domani alla Memo dalle 9 alle 13, appunto dedicato al turismo, al territorio e alle identità, nonché alle strategie. Poi andiamo sull'altra pagina, ora rubano anche le marmitte catalitiche, altro furto vicino alla stazione, il meccanico, sono ricambi pregiati da 1450 euro e davvero ormai si ruba di tutto, i ladri hanno trafficato almeno due ore dentro il locale, strisciando addirittura sotto le auto. Poi a Orciano ha processo tre automobilisti, si aggrediscono davanti a un bimbo di otto anni, una mancata precedenza, dalla mancata precedenza alle mazzate, insomma, scene da far west in strada. A Urbino, la pista ciclabile di fianco alla ferrovia, il consigliere regionale Biancani, Cominciamo con il progetto, dice l'appello, basta con le divisioni, cerchiamo i finanziamenti per valorizzare questa tratta. Poi la foto di un vescovo sorridente, che è quello di Urbino, Giovanni Tani, dice il Duomo e l'Episcopio, siamo pronti per i lavori, l'annuncio del vescovo, i luoghi restano ancora chiusi, gli edifici sono ancora inagibili, ma solo in via precauzionale. Il vescovo Tani, continua a dire, messa a San Domenico. Andiamo di nuovo a Pesaro, le confessioni di Filippo Magnini, eccolo qua, con le fotografie, i selfie di Rito, puoi vincere l'oro, ma nella vita, dice, conta altro e lo dice davanti a uno che la vita l'apprezza ogni giorno, dal mattino alla sera, senza perdere un secondo. Non parlo, dice poi, di Federica, il gossip non mi interessa, ho imparato la lezione di Ivan Cottini, il modello, possiamo dire, modello che combatte contro la sclerosi multipla. Poi, nello sport, dice ancora, si vince e si perde, l'importante è continuare a sognare. Ivan si era dimenticato il costume e allora gli ho prestato il mio. La pagina del Corriere Adriatico, apriamo il Corriere Adriatico, il giornale delle Marche, Pesaro Crolla, altro che feste, il Ricci ora finisce sotto attacco, il sindaco passa da un talk show televisivo ad un altro, ma l'opposizione lo incalza nella sua città. A centro pagina la fotografia per l'assemblea al Teatro Rossini di Confindustria, Industria 4.0, il Presidente Boccia sprona a investire, lo vedremo tra un attimo nelle pagine interne, anzi, vediamola subito questa pagina dedicata all'incontro che c'è stato al Teatro Rossini, dove il Presidente di Confindustria Boccia ha spronato gli industriali pesaresi, a loro ha detto cavalcate la rivoluzione, il Presidente nazionale esorta a investire sull'innovazione, tonti avverte, ora parliamo di recupero, non di ripresa. Muraglia, Muraglia è il sito definitivo per dove costruire l'ospedale unico Pesaro Fano. Ceriscioli, all'assemblea degli imprenditori, non possiamo perdere ancora tempo, dice 200 milioni da impiegare, la regione Marche stanza 80 milioni nei settori di mobile e tessile, e 100 per realizzare la banda ultralarga. Città in declino, altro che luci e feste, a Pesaro l'opposizione attende al Varco il Sindaco Ricci, per Bettini di Forza Italia smarrito il contatto con la realtà, i promemoria di Baiocchi, di Fratelli d'Italia, per il discorso di metà mandato. E il Sindaco da Vespa si batte contro la Meloni e la Gelmini, ospite di porta a porta in veste di Vice Presidente Nazionale del Partito Democratico. A Urbino, in primo piano, ancora il Partito Democratico che non rinuncia alla ferrovia, ma apre anche la pista ciclabile. Approvata in regione la mozione Biancani, bocciata, quella più radicale dei pentastellati. Duro attacco dei sindacati, siamo a Cagli, sanità in stato confusionale, secondo CGL Cisle Will, il caso Cagli illustra bene le politiche regionali del settore. Apriamo e cominciamo ad abituarci alle pagine anche di Urbino e Cagli, lo dico per quelli che dicono affano, chi ce frega di... No, noi lo facciamo perché tra qualche giorno diventeremo regionali, quindi ci vedranno anche in quelle zone, quindi cominciamo ad abituarvi anche alle pagine velocemente. Di Urbino, chiaro, non stiamo a entrare nel dettaglio, anche perché i giornali vanno comprati. La Camera di Commercio adesso esce dall'aeroporto, il Comune non si impegna per il rilancio. Oggi il CDA sceglie il nuovo amministratore dopo l'uscita di scena di Belli. Fanno fortuna e si deve preparare per la gara ENAC, ma il Movimento 5 Stelle vuole indagare sulla gestione. Definiti gli eventi del prossimo anno, si punta su Musica e Carnevale, presentato il calendario 2017, spunta la parata della bandiera e torna la notte dei desideri. Se ritenta l'affondo contro Muraglia, convocati oggi consiglieri regionali, pressioni su Minardi perché si sbilancia a favore di una scelta del sito affidata ai sindaci di area vasta, Fanno Cittadeale chiede la misura radicale dell'abolizione dell'azienda Marche Nord. Io ho condannato, ma dovrebbero risarcire me per i tanti meriti che ho ottenuto in questi anni di lavoro all'ospedale. Parla l'ex primario Gianfranco Franchi, l'ex primario di pediatria, che reagisce alla sentenza dicendo valuterò l'appello con il mio legale. Due anni e otto mesi di carcere, perpeculato e truffa in relazione alle visite private effettuate in ospedale. Sgarbi e maestri del design alla Corte di Pedini, l'azienda di cucine dopo aver conquistato l'estero, punta al mercato nazionale. Poi c'è un lutto, muore a 96 anni Pietro Vecchione, imprenditore illuminato, fondò anche il Lions Club di Fano, si è spento ieri alla veneranda età di 96 anni, uno degli imprenditori più illuminati della città, apparteneva a una famiglia proveniente dal sud, ma Pietro si era così integrato a Fano da farne la città che più amava. Il funerale di Vecchione alle 15 di domani nella chiesa di San Paolo al Vallato. Poi, Valle del Cesano, lacrime, un funerale che invece c'è già stato, è quello del 43enne, se non ricordo male, lacrime, lungo applauso per l'ultimo saluto a Marco, no, 47enne di San Lorenzo, morto sabato sera, cappottando in automobile. Il funerale anche il sindaco dell'Onti a San Lorenzo in campo, una folla nella chiesa della Pieve per l'addio all'ennesima vittima della strada. Il celebrante richiama il valore, consolatorio della fede, caldo abbraccio per la moglie e la figlia. Ancora dalle pagine della Valle del Cesano, siamo a Barchi, risparmio ed efficienza, conversione alle luci LED, stiamo parlando dell'illuminazione pubblica di Barchi e Orciano che si affidano a Megasnet per l'impianto di nuova generazione. Guardate che spettacolo, che belli questi borghi, anche visti dall'alto oggi, di fotografie come queste se ne possono fare tante, basta avere un drone. Ed ecco qui la bellezza di questi borghi del nostro entroterra, questo è il paese di Barchi che sarà dotato di un'illuminazione a LED di quarta generazione. La pagina di Senigallia, siamo in chiusura, salma bloccata dall'autopsia, in scena il funerale senza bara, dimessa dall'ospedale dopo un malore, la tappezziera Santini muore nel sonno. Ieri mattina l'ultimo saluto ad Adrianna Maria Santini, la storica e commerciante che insieme al marito Alberto aveva lavorato nella tappezzeria Angelini lungo corso 2 giugno, gremita la chiesa di San Martino a dimostrazione di quanto la donna, deceduta a 85 anni, fosse amata e stimata in città. L'ultima pagina, torniamo in provincia, siamo a Fossombrone, telecamere con vista intelligente per i furbetti, investimento da 60 mila euro a Fossombrone, due vista red alla Croce e a Porto Santa Lucia. Un terzo dispositivo dovrebbe riguardare l'area attigua invece all'Eurospin. Questo è quello che pubblica il Corriere Adriatico in prima pagina su Pesero e provincia. Si schianta invece, siamo a Mercatello, si schianta sul ponte, soccorsa dall'eliambulanza. È stata una distrazione fatale per una signora al volante, finita contro una colonna. La Rassegia Stampa Occhio Giornali termina qui. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona giornata e come sempre vi ricordo l'appuntamento con il telegiornale di questa sera alle 20.30. Arrivederci. Grazie a tutti.